Per forza di cose, perché poi c'è la finanziaria e Mattarella su questo non transige, diciamo pure. Allora, scusate, facciamo una cosa, sentiamo un momento quello che ha detto Conte su questo, non vivacchio, vado da Mattarella, questo forse è un passaggio importante, e poi sento feltri in Maria Teresa proprio su quello che ci ha detto Marzio Breda, cioè sostanzialmente addirittura bisogna un po' frenare rispetto a questa crisi che arriva. Conte? Se non ci fosse una chiara assunzione di responsabilità, come da me richiesto, nel rispetto delle procedure costituzionali, rimetterò il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, al quale, peraltro, colgo qui l'occasione per rinnovare la mia profonda stima e anche il mio sentimento di gratitudine per il sostegno e per i consigli di cui mi ha sempre voluto onorare fin dall'inizio del mio mandato. Allora, Vittorio Feltri, quello che ho capito dalle parole di Marzio Breda, che continua a dire, è il massimo esperto di vicenda dell'equirinale, quindi mi fido molto delle sue parole, è che Mattarella sta gestendo i tempi per una crisi proprio per andare a votare, cioè non si pensa a maggioranze diverse, insomma, la prospettiva è capire come e quando sciogliere le camere per andare a votare. Sei d'accordo a vedere questa prospettiva? Ma il ragionamento di Marzio Breda non fa una grinza, le cose stanno così, perché non si può certo andare a votare in agosto, quindi bisogna andare in settembre eventualmente e per andare in settembre bisogna sciogliere il Parlamento in una data che sia idonea a far trascorrere 70 giorni dallo scioglimento alle urne, quindi mi pare che metà luglio potrebbe essere la data ideale, però io non sono del tutto convinto che Mattarella voglia sciogliere il Parlamento, perché c'è qualche tentativo da fare ancora prima di sciogliere, magari sono tentativi più formali che sostanziali, ma potrebbe benissimo affidare a qualcun altro il compito di fare il governo è di trovare una maggioranza e guarda caso nel Parlamento italiano c'è comunque una maggioranza teoricamente possibile, anche se improbabile. E' deseguita dal Movimento 5 Stelle che in Parlamento ha ancora il 32-33%, quindi parecchio, più il vecchio PD, il vecchio PD diragnato, ma che comunque con un 20% unito al Movimento 5 Stelle potrebbe dare luogo a una maggioranza. Scusa Vittorio? Non credo che Mattarella rinunci a questo. Ma secondo te c'è la possibilità che dia un incarico a Salvini, un po' come successe con Craxi negli anni del pentapartito? Non è il primo partito ma è il leader del momento, è una cosa possibile a tuo parere? No, non è possibile perché attualmente Salvini, anche se reduce da un trionfo europeo, in Parlamento ha un 17% che non gli consente di alzare la voce, non gli consente di fare proposte e di costituire una qualsivoglia maggioranza, perché potrebbe costituirla con chi? con quelli con i quali ha litigato, che sono le 5 Stelle, allora è inutile fare la crisi. Allora, stiamo vedendo delle immagini meravigliose di Venezia, perché la nostra inviata Ludovica Ciriello sta girando per Venezia.